Trasloco scolastico per Lucia Azzolina, l'ex ministro sarà il nuovo dirigente di un istituto di Biella. L'ex ministro dell'istituzione Lucia Azzolina sarà il nuovo dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Biella II. Dopo l'esperienza al ministero tra il 2020 e il 2021 come ministro dell'istituzione nell'ambito del Movimento 5 Stelle, Azzolina era poi diventata preside di un istituto scolastico in Sicilia, nella sua Siracusa. In passato Azzolina aveva già lavorato a Biella come docente all'ITIS Quintinosella. Neomamma per Azzolina è un momento d'oro, il 21 giugno è infatti diventata mamma di Leonardo, il piccolo è nato nel giorno del sostizio d'estate ma anche del primo scritto degli esami d'estate, aveva scritto all'ex ministro su Facebook. È un angioletto e non mi sembra vero di poterlo stringere tra le braccia. Ringrazio Giovanni, amore mio, per avermi dato la possibilità di essere mamma, per avermi fatto ridere anche quando piangevo per i dolori, mentre lui rideva e piangeva per l'emozione. Il compagno di Azzolina è Giovanni Rinaldi, più volte candidato sindaco di Biella con il Movimento 5 Stelle.